E in questo video andremo a vedere una montagna di dati che ho preparato e quindi ragazzi i pollicioni in su subito immediato 30 secondi pollice in su va bene bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a capire cosa sta succedendo sul grafico di bitcoin negli ultimi giorni e ci sono una serie di indicatori da guardare il grafico da guardare per capire se Bitcoin si sta preparando per un nuovo super pump che potrebbe arrivare a giorni barra settimane oppure c'è una fase di ripensamento che indica che è stato fatto un massimo di periodo massimo che ovviamente potremmo poi portarci dietro per tanto tanto tempo Torniamo quindi sui grafici torniamo quindi sugli indicatori in questo video che è un video tecnico dove guarderemo delle indicazioni che abbiamo in questo caso da indicatori di trading ragazzi Ma poi alla fine del video vi lascio un piccolo bonus con un'aria di buy una leggera leggera strategia che si potrebbe in effetti fare e vi spiego un po' dei livelli che bisogna tenere a mente e monitorati Allora dove andiamo oggi a guardare tutto questo marasma di roba lo andiamo a guardare sulla piattaforma PrimeXBT Ragazzi PrimeXBT è la piattaforma che io utilizzo come trading CFD per quanto riguarda l'uso di Bitcoin quando vado a utilizzare Bitcoin per fare le operazioni di trading Ne ho parlato già diverso tempo con il discorso di Prime ragazzi per tutti i nuovi arrivati sul canale andatevi a vedere i vari video dove faccio anche una recensione Per capire cosa si rischia quando si utilizzano dei servizi crypto che hanno una valuta che non è l'euro ma è il Bitcoin come valuta Però strautile questa piattaforma in un momento in cui Bitcoin sta facendo i numeri a rialzo e ancora continua il trend rialzista Perché ci dà la possibilità di moltiplicare i guadagni Le ho spiegato un po' diverse volte questo discorso ragazzi perché se andiamo a fare gain in Bitcoin Bitcoin sale anche sull'euro a quel punto guadagniamo due volte Chi non capisce questa cosa qui ragazzi scrivetemelo nei commenti e vediamo magari vi faccio proprio vedere da un punto di vista matematico come avviene Quindi mi piace utilizzare questa piattaforma in questa fase perché Bitcoin pompa alla grande e sta facendo grandi numeri e questa cosa può dare un doppio slancio Ovviamente sono piattaforme ragazzi iper rischiose come tutte quelle legate al settore trading ma io vi lascio anche un link in descrizione Se volete testare questa piattaforma perché c'è un link con una promo relativa a un bonus che potete utilizzare E ragazzi giocarci un po' fare un po' anche delle operazioni per capire effettivamente tutto quello che si può fare con queste piattaforme Ovviamente ricordatevi trading solo se siete formati se non siete formati formatevi non capisco perché ancora non siete formati Non si può fare investimento trading senza formazione Non ve lo dovete scordare chi prova a fare una cosa del genere ragazzi la deve prendere a divertimento Se invece volete farlo bene in maniera giusta in maniera corretta formazione mi raccomando ok Allora su questa piattaforma ho già segnato tutto quello che sono gli indicatori che andremo a guardare oggi E i due grafici che vi mostrerò il primo grafico che andremo a guardare è quello di Natura Daily E poi andiamo a guardare anche quello Weekly Ci sono due indicatori che possiamo tenere sotto controllo in questo momento per quanto riguarda questo grafico Uno è un indicatore importantissimo l'RSI perché perché l'RSI sta dando un'indicazione Di divergenza su Bitcoin la divergenza è fatta in questo modo Allora ragazzi vedete qui l'RSI sta scendendo mentre Bitcoin ancora in questa fase Tendenzialmente non è un rialzo perché è una specie di triangolo Che è una figura che sembrerebbe anche di continuazione del trend Però l'RSI è in fase di divergenza Cosa significa un'RSI in fase di divergenza ragazzi? Significa in pratica che il mercato potrebbe invertire e andare a fare un bel trend così Allora mi basta Allora questa cosa questa divergenza dell'RSI va interpretata in modi differenti Ci sono diversi modi per interpretare questa questa divergenza Uno è la famosa il famoso discorso con la divergenza quindi mi dà l'indicazione di inversione a breve L'altro invece è fase di riposo Perché vi faccio adesso vedere perché? Perché quando l'RSI dall'ipercomprato se ne torna in aria neutrale Questo non significa ragazzi che il mercato sta iniziando una fase ribassista Perché il mercato può fare due cose quando l'RSI dà questa indicazione Questo lo spiego nel mio corso di trading ragazzi L'ho straspiegato perché l'RSI è un indicatore veramente che ho spulciato in tutti i modi Trovate il link se volete informazioni sui miei corsi in descrizione di tutti i miei video In ogni caso ragazzi guardate qui questo RSI è tornato nella fase di neutralità Vedete tra l'ipercomprato e l'ipervenduto esiste una zona neutrale Che è quella che è stata già raggiunta da Bitcoin Cioè questa zona qui ragazzi ok? Questa zona di neutralità Ora se l'RSI rientra in questa zona neutrale Quello che sta indicando è che il mercato è in fase di riposo Solo laddove poi il mercato quindi i prezzi vadano a indicare un forte segnale ribassista Che adesso vi dico qual è Allora a quel punto questa indicazione è pericolosissima Quindi lì dovremmo poi stare ad analizzare effettivamente i prezzi Adesso andiamo a vedere il livello che dovete tenere a mente E però ragazzi in questo momento qual è veramente l'indicazione che il RSI sta dando Bitcoin sta scaricando gli indicatori e quindi si sta caricando per una nuova fase di pump Questo è possibile ovviamente ma i prezzi dovranno confermarlo E vi farò vedere anche alla fine del video come lo devono andare a confermare Un altro indicatore che invece possiamo andare a guardare e che tengo sempre sotto controllo È quello della media La media anche in questo caso ragazzi ci sta indicando in maniera abbastanza chiara Che il mercato si è fermato vi faccio un ingrandimento per farvi capire Ragazzi allora la media è questa indicazione qui Questo è una media a 21 in questo momento Io la utilizzo vi faccio vedere insomma anche tutti i come si mettono appunto gli indicatori su prime Veramente semplice ragazzi prime è di una banalità veramente facilissimo da utilizzare Allora questa media che adesso vi ingrandisco per farvela vedere a 5 punti diventerà è praticamente enorme Infatti eccolo qui Ok allora questa media sta indicando che Bitcoin si è fermato ma non è una media che ci sta dicendo che Bitcoin ha invertito e iniziato la fase di bassista Perché? Perché si è appiattito qui Quando la media si appiattisce in questo caso ci sta dicendo che il trend si è fermato Che il trend si sia fermato dopo i super rialzi di oltre 80 punti mi sembra assolutamente normale e mi sembra anche assolutamente logico questo Però da qui a dire ci sarà un'inversione ce ne vuole Quindi in questo momento i prezzi di Bitcoin ci stanno dicendo un'informazione Anche gli indicatori che abbiamo visto RSI Bitcoin si sta ricaricando La media mobile ci sta dicendo Bitcoin si è fermato si è stabilizzato ma non ha iniziato una fase discendente Ora come facciamo ad andare a capire se da questo momento che è un momento di riposo ragazzi Come ve lo posso far vedere? Non ho una pallina con me ma voi immaginate di lanciare un oggetto in aria E poi quella... ok? Quella fase in cui si riposa il mercato Il respiro di un qualcosa che si sta andando a riposare Come quando buttate qualcosa sul letto ragazzi Che va sofficemente ad appoggiarsi Bitcoin sta facendo esattamente questa cosa qui Però ci sono delle indicazioni che bisogna andare a guardare Quindi dei livelli che dobbiamo tenere monitorati In maniera forte, in maniera strettamente importante In questa settimana durante il weekend ancora una volta da sabato Nella mia Trading On Academy abbiamo fatto un'operazione usando proprio Prime Almeno io ho usato Prime ragazzi moltissimi anche lì La utilizziamo proprio per queste operazioni veloci Cioè siamo andati a fare un long in questa zona qui E il long l'ho indicato in chiusura ieri sera A prezzi più o meno di 19.100 dollari Perché la situazione era instabile ragazzi Quindi mentre qui vi sto dicendo che secondo me Bitcoin si sta preparando a un nuovo sdlancio Io sono uscito con le mie posizioni di trading e con la mia Academy Siamo entrati in questa zona Ci siamo presi questo profitto e siamo usciti in questa zona Ora probabilmente il mercato magari tornerà a salire Poi decideremo cosa fare Però abbiamo fatto trading sulla fase che vedete in questo momento Che è una nuova fase ciclica Ed è qui che si gioca la partita di Bitcoin Da qui alla fine dell'anno Quindi a fine dicembre Capodanno di Bitcoin Va bene perché? Perché se il mercato non riuscirà a rompere questo livello di massimo È pericolosa tutta questa struttura Potremmo poi avere un risvolto effettivamente negativo Dove questi dati che ci stanno indicando una divergenza in questo momento Che non è una vera divergenza Perché? Perché Bitcoin dovrebbe andare a farmi un nuovo massimo A quel punto avremmo una divergenza Se l'RSI non va di nuovo su Ma sicuramente andrebbe su Quindi non ci sarà una divergenza in questo caso veramente brutta In quel caso dovremmo andarla a vedere Ma se il mercato non andrà su Nei prossimi giorni Sopra i 20k I 20.000 dollari Si potrebbe innescare una spirale di bassista Dove? Se andrà a rompere Questo livello di supporto Tenetelo a mente Come se non ci fosse un domani 17.500 nei prossimi giorni 17.500 è un livello di supporto Importantissimo Se Bitcoin lo romperà per esempio in questa zona qui È possibile anche una fase di discesa Perché no? Se invece andrà a rompere questi 17.500 Sole unicamente verso fine mese Allora ci riaggiorneremo sul canale ragazzi Perché potrebbe essere una semplice close di un ciclo mensile E l'analisi ciclica gli indicherebbe che siamo pronti per il nuovo pump Però questo lo vedremo nei prossimi video Invece adesso andiamo a vedere un super bonus Quale livello possiamo utilizzare con un livello buy the dip? Cos'è il buy the dip? È un buy che avviene appunto quando questa pallina vado ad atterrare dall'altro verso il basso E io vado a inserire il mio ordine per comprare un mercato Ma lo faccio non perché il mercato ha un trend ribassista E il discorso del comprendere la strategia buy the dip è fondamentale ragazzi Io ho dedicato un intero modulo nel mio corso proprio a questa strategia Ne ho formulato una mia personale strautile proprio sulla Su bitcoin funziona alla grande proprio su bitcoin Perché? Perché molti pensano che fare una strategia buy the dip Significhi andare a comprare uno strumento finanziario che ha un trend ribassista Non è così ragazzi La strategia buy the dip è una strategia che vi fa acquistare uno strumento finanziario Che ha un trend ribassista ma si sta riposando Quindi esattamente quella in questo momento che si può fare in questa fase Allora qual è questa strategia ragazzi? La strategia buy the dip è proprio adatta a un trend ribassista Che però sta dimostrando una fase di riposo come in questo caso bitcoin Perché abbiamo uno, due, vedete le onde Quindi stiamo andando a riposare Quindi se il mercato fa una cosa del genere Qui abbiamo delle varie dip che sono appunto indicate come possibili livelli di acquisto del mercato Allora cosa andrò a fare? Mi metterò sulla mia piattaforma di prime a decidere quale prezzo può essere un prezzo indicativo Per un long di bitcoin con strategia buy the dip Vi dico adesso anche i livelli di stop State attenti Allora dove sta il prezzo? Il prezzo non è assolutamente ai livelli di 17,5 Io so che molti di voi diranno Ok allora la compro al minimo Non si può fare ragazzi Perché non è detto che il mercato arrivi lì E soprattutto anche se ci arriva è pericoloso Perché siamo sul supporto Comprare su un supporto riduce moltissimo dei rischi Ma la probabilità che avvenga il rimbalzo si è già ridotta Quindi è una coperta corta ragazzi La tirate da una parte e dall'altra Quindi ok Il vero prezzo che secondo me è strautile per fare dei buy In questo caso sta intorno ai 18,4 Tra 18,4 che poi è questa fascia qui Questa che vedete 18.400 dollari fino a 18.000 Tutta questa zona è un splendido Buy the dip in questa fase E se lo fa ragazzi Quindi questa è una buy area E allora possiamo andare a inserire un ordine tranquillo qui Come si fa ragazzi? Allora andate a cliccare buy Mettete invece di market mettete limit E mettiamo qui 18,4 E boom E clicchiamo Vi dovete mettere la quantità In questo momento io ho prelevato già tutto quello che avevo sul cotto Quindi devo rimetterci le liquidità Perché come vi ho detto Sono uscito ieri da questa operazione E quando esco poi prelevo dalla piattaforma Allora da qui ragazzi mettete un bitcoin E cliccate send order In questo caso vi farà immettere l'ordine Sarà immesso Poi dovete andare a inserire lo stop e il take Che si può fare su queste piattaforme In maniera diretta Questo è un altro plus che c'è su Prime Ragazzi rispetto magari ad exchange come Binance Ci sono dei plus a livello di trading operativo E delle differenze totali Da un punto di vista anche di security Quindi badate bene ragazzi Quando utilizzate questi servizi E questi exchange Vete sapere quello che state facendo Io li uso perché so quello che faccio Quindi andate a spulciarvi tutti i miei video Dove parlo di Prime XBT Allora qui si possono però mettere gli stop e i take Direttamente andando a inserire qua ragazzi i prezzi E questo è un grande vantaggio Perché vi mettete lì Mettete l'ordine Mettete stop Mettete i take Andate a dormire Ragazzi questo è una splendida automazione Che si può fare Dove lo stop loss Quindi di questa buy the dip È sotto i 17.500 Perché diventa pericoloso Quindi la zona che sarà qui Tra i 17.500 e i 17 È una zona di stop ragazzi Quindi se fa una candela daily sotto 17.500 Soprattutto se la fa prima del 25 di dicembre Prima di Natale Stoppate e andate a casa Ok abbiamo perso Ma abbiamo perso pochissimo Piuttosto che stare in una situazione di pericolo Va bene Ok ragazzi Allora vi lascio il link con il coupon di Prime in descrizione Per chi volesse provarla Vi ho detto però Quello che sta facendo Bitcoin in questa fase Si sta caricando probabilmente per un nuovo pump Ora il problema è Se non riuscirà a fare questo pump Sopra i 20k Entro la fine del mese Poi andrà a fare la chiusura ciclica mensile di fine mese Probabilmente assisteremo a una fase di correzione Dove il buy the dip potrebbe essere interessante Da tradare appunto per la ripresa futura del mercato Cioè quando? Nel prossimo ciclo mensile Ciclo che terremo d'occhio Con gli occhi grandi così sul canale E' proprio qui Quindi ragazzi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto E come sempre Pollicione in su E cosa state facendo voi A livello di trading Perché a livello di holding Siamo tutti ovviamente sull'holding E nessuno sta uscendo Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video